Ciao a tutti ragazzi sono Pinguina Live e sono qui con un tutorial su come installare e giocare online a Battlefield Bad Company 2. Allora, prima di tutto dovete avere views oppure qualsiasi altro programma per scaricare file torrent per esempio io uso views che permette di scaricare file torrent vi lascio il link in descrizione poi scaricate questo file che è la ISO di Battlefield Bad Company 2 e scaricate anche questo file che vi servirà più avanti però l'unica pecca di questo download è che si scarica direttamente senza usare torrent e quindi sarà abbastanza lento e poi l'ultimo file che vi serve è questo qua voi premete qua download the client hook su questo server si su questa pagina e vi scaricherà un file che si chiama d'input8dll allora prima di tutto si va bene ciao prima di tutto andate su si si va bene ah era giusto andate sulla cartella del download e montate con daemon tools la ISO di Battlefield Bad Company 2 aspettate un attimo e fate apri cartella per visualizzare i file poi andate su crack anzi fate direttamente autorun che vi conviene mettete italiano e install e qua vi chiede il codice voi andate su crack e questo qua che non so rldbb Bad Company 2 fate generate copiate incollate avanti e adesso installerà Battlefield Bad Company 2 si va bene io sono furbo ok adesso metto in pausa e ci vediamo dopo bella eccoci qua ha finito l'installazione adesso vi chiedo di fare di una di queste due fate autenticazione online e fate ok non installate il punkbuster e fate fine adesso non installate la crack e andate no ho sbagliato andate sul file che si chiama r11patch bla 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 che è adesso lo trovo scusate che è un po' di casino eccolo qua questo qua lo eseguite a volte funziona a volte non funziona eccolo qua aspettate che finisca quando ha completato aspettate un attimo scusate cioè quando ha finito questo procedimento potete anche eliminare il file sta già appacciando sta già appacciando sta già appacciando ok ha finito e adesso lasciate che qua vada fate si e lasciate che perché me l'ha chiesto due volte va bene è stupido che differenza c'è qua ma intanto vi spiego si va bene vi spiego che allora questo è il server ufficiale del dell'emollutore nexus che è come dire non so come dire sinceramente ma in pratica su questo sito ci sono molte informazioni scritte tutte qua e niente se vi viene questo errore probabilmente avete installato cioè avete usato la crack e non dovete assolutamente usare la crack eeehm ah sta mp3 mp3 come me ehm cioè a me non è mai successo niente a parte questo qua perché non avevo seguito bene cioè non avevo fatto male il procedimento comunque qui c'è scritto server status adesso i server sono offline per esempio i server sono spesso offline perché ancora in fase di test di test e quindi non sono mhm sempre online sinceramente è la prima volta che li trovo offline ma non importa qua sta ancora installando cioè aggiornando e niente quasi manca pochissimo dai so che ci puoi fare vai dai 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 oh giochi finisci finisci oh eccola qua il giochi è stato aggiornato alla versione più reggente voi fate no e ehm vabbè andate sul sull'ultimo file che vi ho fatto scaricare che è questo nexus bat company 2 hook e ops questo e lo mettete nella cartella principale di mad company 2 che si trova in c2 punti programma per scusate l'ho trovato sono un coglione non l'ho trovato la cartella comunque si chiama ehm computer c2 punti programma per 86 electronic arts e battle world bat company 2 e voi ehm ehm estraite il file di input 8.dll dentro questo cartella fate sposti sostituisci date si fate continuo e siete a posto e adesso dovrebbe partirvi il gioco ehm per eventuali problemi scrivetemi pure porca puttana porca di si avvia con il gioco si avvia con battlefield bat company 2 game e si perfetto ehm niente adesso vi farò una prova che alla fine del video dopo questo dopo il tutorial ci saranno degli ispezioni di gioco quindi spero vi sia stato utile e ciao ciao oh mio dio oh mio dio spagno for the wheel Sì Oh mio Dio Sì 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 Sì